Dopo le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal direttore amministrativo dell'ASL di Teramo di Giosia circa l'appaventata ipotesi che i fondi per l'ospedale nuovo di Teramo fossero presi da quelli previsti per il nostro comio Giuliese Mastromauro lei si sente di replicare? Ma più che replicare io sottolineo come le dichiarazioni del direttore amministrativo di Giosia che saluto hanno come destinatario una persona sbagliata chi ha diffuso una informazione falsa non sono io ma è il capogruppo del Partito Democratico all'emiciclo Sandro Mariani perché vede, dottor Di Giosia, l'hanno letto tutti che Sandro Mariani ha dichiarato proprio il 20 di maggio sulla stampa questo della città ma su tutti gli organi di informazione come per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo sarebbero stati utilizzati i fondi previsti da almeno 15 anni per l'ospedale di Giulianova quindi io la invito a fare la sua reprimenda a Sandro Mariani che forse sarebbe il caso che si studiasse le delibere che io faccio il sindaco, io conosco le delibere del mio comune mentre Mariani si presume che conosca quelle della regione evidentemente ha preso un abbaglio io non sono contento di questo perché proprio nel commentare quanto aveva detto Mariani io ho sottolineato come invece il manager Roberto Fagnano con il quale avevamo avuto modo di parlare di queste cose con il Vescovo pochi giorni prima aveva proprio invece affermato l'esatto contrario di quanto in maniera non informata ha dichiarato Mariani e quindi io dicevo o dice il falso Mariani o diceva una cosa non corretta Fagnano adesso io sono contento, invito di Giosì a richiamare Sandro Mariani ma poi andiamo al nocciolo quello che ci interessa a noi è che la sanità nel Terramano funzioni direttrice e io che vado dicendo da dieci anni come bisogna ottimizzare la presenza dei nosocomi per acuti in provincia di Terramo sono felice che si metta mano all'ospedale di Terramo perché anche nella nostra proposta di cui io mi faccio portavoce è il primo ospedale della provincia di Terramo io sono contento che su Terramo si investa così come noi diciamo che oltre a Terramo ci deve essere l'ospedale della costa sul quale bisogna investire ma non per Mastromauro, Mariani, Di Giosìa o Fagnano ma per gli utenti perché noi vogliamo che non ci sia più mobilità passiva che i cittadini abbiano le risposte che meritano che non debbano andare fuori regione per ottenere una sanità di eccellenza